Domenica, 2 giugno 1946. Dopo l'attesa concitata e le polemiche degli ultimi giorni, gli italiani si presentano finalmente al loro appuntamento con la storia. È infatti il giorno del referendum per decidere se mantenere la monarchia o instaurare la Repubblica. L'eccitazione è palpabile ai seggi, dove fin dalla prima mattina si formano code e capannelli di votanti, così come sulla carta stampata. Tutti alle urne, titola il Corriere della Sera, e tutti alle urne con serietà, con compostezza, con calma e con un gioioso senso di orgoglio. Si siamo orgogliosi di aver finalmente ritrovato noi stessi, orgogliosi di essere ancora dei cittadini. Tutti alle urne, alle urne senza paure, serenamente convinti dell'importanza del nostro voto e fiduciosi nel successo della causa per cui andiamo a darlo. Ma quale sia per essere l'esito del referendum, impegniamoci fin d'ora ad accettarlo e a rispettarlo. Così, in questo riconoscimento in questa accettazione della volontà popolare, noi daremo al mondo la miglior prova che siamo degni della libertà che abbiamo finalmente riconquistato. Quasi come se temessero che la possibilità di esercitare il proprio diritto di voto possa essere improvvisamente revocata, moltissimi vanno a votare subito nella mattinata di domenica, ingolfando i seggi elettorali. E invece ci sarebbe tempo di votare fino alle dieci di sera e poi anche fino a mezzogiorno del giorno seguente. Forse però più che timore è solo impazienza. Sono vent'anni che non si vota più liberamente. I più giovani poi non hanno mai neppure provato l'ebrezza del voto perché sono nati durante il regime fascista, mentre le donne di ogni età non ne hanno mai avuto diritto. È chiaro che c'è proprio di che essere emozionati e impazienti. Tra chi invece se la prende con calma c'è il re, Umberto II. Andrà a votare soltanto la mattina dopo, il 3 giugno, mentre la regina Maria Osè restituisce al presidente di seggio la scheda per il referendum per una questione di eleganza. La scheda per il referendum è molto chiara. Bisogna apporre una X sul simbolo della monarchia, il tradizionale stemma sabaudo, o alternativamente su quello della Repubblica, il profilo di una donna, allegoria dell'Italia, con il capo cinto da una corona turrita. Nonostante questo però vi saranno comunque moltissime schede nulle a causa degli errori di compilazione e in un paese in cui il tasso di analfabetismo medio si aggira ancora attorno al 18%, il dato non ci stupisce certo. Su più di 28 milioni di aventi diritto si presentano alle urne in quasi 25 milioni, corrispondenti cioè all'89%. La mole di schede da conteggiare pertanto è notevole e la procedura macchinosa e complessa. Già dal tardo pomeriggio del 3 giugno iniziano ad affluire nella Sala della Lupa a Montecitorio i sacchi contenenti le schede provenienti da tutta Italia. Nel fervore della ricostruzione, nell'entusiasmo della giornata storica, le amministrazioni comunali sopperiscono come possono alla generalizzata miseria lasciata dalla guerra. Ed ecco quindi che i voti che arrivano a Roma sono contenuti in sacchi per la farina, in vecchi sacchi della Repubblica di Salò, addirittura in sacchi della spazzatura. Nella sala strapiena vi sono i militari della Commissione Alleata che virgilano sul voto, i membri della Cassazione e diversi politici dei vari schieramenti, quelli che oggi chiamiamo i rappresentanti di lista, che assistono allo scrutinio e discutono sulle schede bianche e su quelle da invalidare. Il computo viene effettuato dagli addetti su delle macchine calcolatrici, ma per sicurezza viene poi ripetuto anche a mano, appuntando via via il numero di sacchi scrutinati. Ed è proprio l'afflusso delle schede dalle varie regioni d'Italia che determina uno dei cosiddetti misteri della storia italiana. Nella notte del 3 giugno, infatti, sembra quasi certa una vittoria della monarchia. Sono già stati scrutinati diversi milioni di voti e la prevalenza di casa Savoia è netta. De Gasperi si spinge addirittura a comunicare la vittoria al ministro della Real Casa, Falcone Lucifero. Papa Pio XII viene avvisato e i deputati delle sinistre si aggirano affranti e sconsolati per i corridoi di Montecitorio. Il giorno dopo, però, la situazione si ribalta improvvisamente. Le schede che vengono scrutinate nella mattinata del 4 giugno, infatti, sono prevalentemente repubblicane, al punto che il risultato si rovescia e il 5 giugno immergono le prime comunicazioni sull'esito del voto. Quella che sembra un'improvvisa vittoria della Repubblica dà adito a contestazioni di ogni tipo. Le schede repubblicane sono forse state aggiunte successivamente per falsare l'esito del voto? Più probabilmente, invece, la differenza nei risultati dello spoglio nasce dalla netta distinzione geografica del referendum. Il Sud, infatti, vota compatto per la Casa Reale, mentre il Nord, anche il Piemonte, terra d'origine della dinastia, si pronuncia senza dubbi per la Repubblica. È probabile, quindi, che siano state prima scrutinate le schede del Meridione e poi, in seguito, quelle maggioritarie del Nord d'Italia. Un altro aspetto del referendum, però, lascia spazio a teorie complottistiche e dubbi, oltre che attirare le polemiche dei monarchici. Il regolamento della consultazione elettorale vieta a diverse categorie di persone di partecipare al voto. Non possono votare, infatti, tutti coloro che, prima della chiusura delle liste, si trovavano ancora al di fuori del territorio nazionale. Ad esempio, più di 600.000 militari italiani che, rifiutandosi di collaborare con i tedeschi o di tornare in Italia firmando per l'arruolamento nella RSI, rimasero quasi due anni internati nei campi di prigionia nazisti, ma anche i militari prigionieri in Francia, negli Stati Uniti e in Africa. Non possono votare neppure i cittadini dei territori delle province di Bolzano, fatti salvi alcuni comuni, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume e Zara, perché oggetto ancora di contesa internazionale e quindi soggetto ai governi militari alleati o jugoslavo. Sono inoltre esclusi coloro che sono rientrati in Italia tra la data di chiusura delle liste, cioè l'aprile del 1945, e le votazioni. I filomonarchici insisteranno a lungo anche negli anni a venire su questo punto, cercando di sostenere l'invalidità del voto. Eppure risulta difficile ipotizzare che il voto di tutti gli assenti, in particolar modo i soldati prigionieri che soffrirono proprio più di altri per le scelte sconsiderate di Vittorio Emanuele III, sarebbe andato del tutto alla monarchia. Il 10 giugno 1946, sempre a Montecitorio, la Corte di Cassazione si pronuncia quindi ufficialmente. Ha vinto la Repubblica con 12.718.641 voti, pari al 54,3%. Alla monarchia sono andati invece i voti di 10.718.502 elettori, pari al 45,7%. Non tutti però sono d'accordo con i risultati del voto. Come avevamo anticipato, Napoli, dopo aver cacciato i tedeschi nell'estate del 1943, si solleva questa volta per sostenere la monarchia. Ed era a Napoli d'altronde una città dalla forte impronta monarchica. Vittorio Emanuele III era nato proprio a Napoli ed era stato battezzato con il nome di Gennaro in onore del santo patrono della città. A Napoli aveva vissuto da giovane e sempre a Napoli aveva trascorso quasi due anni tra la firma del decreto luogotenenziale e l'abdicazione. Prima di partire per l'esilio in Egitto, infatti, Vittorio Emanuele vive a Villa Rosberi, a Posillipo. L'11 giugno del 1946, in via Medina, davanti alla sede napoletana del Partito Comunista, polizie e monarchici si scontrano violentemente. La manifestazione lascia sulla strada nove morti, simpatizzanti o militanti del partito monarchico. Tutti giovani, anzi giovanissimi, vi è perfino un ragazzino di 14 anni e anche una ragazza, Ida Cavalieri, di 19 anni. E sono proprio le vittime di Napoli e il timore è che gli scontri non si plachino. Infatti anche il 12 giugno la polizia disperde con la forza un corteo non autorizzato nella città partenopea a convincere Umberto a prendere la strada dell'esilio. Il 13 giugno, pertanto, Umberto II parte da Roma, direzione Portogallo. Sono le sue ultime ore trascorse in patria, ma non lo sa ancora. Infatti l'obbligo per lui e per i discendenti maschi di casa Savoia di non mettere piede in Italia verrà stabilito soltanto dalla Costituzione, due anni più tardi. Prima di lasciare il paese, Umberto lancia un proclama polemico agli italiani, in cui critica la scelta di aver proclamato la Repubblica senza attendere il ricorso alla Cassazione, e scioglie le forze armate dal vincolo di fedeltà nei suoi confronti. Italiani, nell'assumere la luogotenenza generale del Regno prima e la Corona poi, io dichiarai che mi sarei inchinato al voto del popolo, liberamente espresso sulla forma istituzionale dello Stato. Ma non volendo opporre la forza al sopruso, né rendermi complice dell'illegalità che il Governo ha commesso, lascio il suolo del mio paese, nella speranza di scongiurare agli italiani nuovi lutti e nuovi dolori. Compiendo questo sacrificio nel supremo interesse della patria, sento il dovere, come italiano e come re, di elevare la mia protesta contro la violenza che si è compiuta, protesta nel nome della Corona e di tutto il popolo, entro e fuori i confini, che aveva il diritto di vedere il suo destino deciso nel rispetto della legge e in modo che venisse dissipato ogni dubbio e ogni sospetto. L'Italia però invece ha scelto e non ha tempo di recriminazioni. Si volta pagina, è nata la Repubblica.